Sindaco, oggi incontra i dirigenti scolastici per poter decentralizzare le vaccinazioni e dare una spinta in più. Sì, abbiamo una percentuale ancora non accettabile per quanto riguarda il tasso vaccinale agrigentino, siamo al 61%, possiamo fare molto di più. L'esperimento che ho voluto fare a Giardina Carlotti, dove in due mattinate abbiamo vaccinato tutta la restante popolazione di Giardina di Montaperto, ha funzionato. La scuola ha dato i locali, l'ASPE ha a disposizione personale, i medici di famiglia sono stati collaborativi al massimo ed è riuscito benissimo. Quindi voglio ripetere l'esperimento anche nel resto dei quartieri della città, in modo tale che grazie ai dirigenti scolastici e grazie anche ai medici curanti, con l'apporto sempre dell'ASPE possiamo aumentare il tasso vaccinale. Sicura l'ASPE corre a ripare un incontro con i dirigenti scolastici? Sì, un incontro non solo con i dirigenti scolastici, ma anche con l'autorità e l'ente locale, con il sindaco e soprattutto con i medici di famiglia. Sia i medici di famiglia che si occupano delle famiglie degli adulti, ma soprattutto con i pediatri. Ho pensato che fosse necessario un coinvolgimento maggiore dei pediatri che possono incidere in maniera più autorevole su quella fascia 12-18 anni, ma soprattutto 12-14 anni, che in questo momento mostra un limite in quella che è la percentuale di vaccinazione. D'accordo con il sindaco noi abbiamo già fatto una sperimentazione con Giardina Gallotti, abbiamo visto che c'è stata una buona regezione. Contestualmente adesso su Portempedocle ho incentivato l'attività pure vaccinale, soprattutto su queste fasce. Qui su Agrigento farò in modo, insieme al sindaco, che soprattutto i ragazzi, ma anche quella parte di personale docente e ATA che ad oggi ha avuto delle difficoltà a vaccinarsi, possa essere vaccinata in maniera tale da poter garantire un perfetto inizio delle attività scolastiche. Quindi vaccinazioni che avverrebbero direttamente a scuola? No, a scuola no perché dobbiamo garantire la sicurezza, quindi noi adesso decideremo, le potremo fare sia per quanto riguarda le nostre strutture, quindi il PTA al vecchio poliambulatorio o qui soprattutto al lab dove possiamo garantire una corsia preferenziale a qualsiasi orario, ma soprattutto, adesso magari posso lanciare un'ipotesi, con il sindaco stiamo pensando di organizzare anche un punto vaccinale serale e notturno, nei luoghi dove c'è la movita dei ragazzi, quindi magari anche all'inizio di Via Tanea, fra mezzanotte, intorno a mezzanotte, dalle 20 alle 24, per poter prendere sempre il maggior numero di ragazzi che possano essere vaccinati. Più sicura si punta alla vaccinazione? Oggi un incontro particolare. Noi accogliamo di buon grado l'iniziativa delle istituzioni preposte, l'ASP nella persona del dottore Marchica e l'ente locale nella persona del sindaco dottor Miciche, perché indubbiamente già siamo impegnati, diciamo da questo mese, nella predisposizione di tutte le attività affinché l'attività didattica si svolga in presenza quest'anno e nella massima sicurezza. Pertanto quella parte col personale scolastico diciamo che grossomodo siamo ad una percentuale abbastanza alta di vaccinati, naturalmente lavoriamo per far sì che la copertura sia totale. Per quanto riguarda gli alunni è chiaro che alcuni già sono vaccinati, altri io penso che potranno essere assolutamente incentivati da questa campagna che si sta aprendo adesso. Noi dal canto nostro all'interno delle classi, attraverso il personale, nella persona dei dirigenti scolastici faremo sin dal primo giorno opera di sensibilizzazione, perché crediamo che sia un atto di responsabilità individuale che incide anche naturalmente nell'interesse collettivo e quindi che coniuga perfettamente diritto alla salute e diritto all'istruzione. Dottore, quanto è importante vaccinare i ragazzi dai 12 anni in poi? Per noi le vaccinazioni sono una mission. Noi pediatri mettiamo sempre e privilegiamo sempre la prevenzione rispetto alle cure, per cui siamo sempre stati favorevoli a tutte le forme di vaccinazione dalla prima infanzia a seguire. Ovviamente in questo periodo emergenziale ci ritroviamo in questa situazione veramente terribile, dove soprattutto con questa variante delta la propagazione dell'infezione è diventata veramente preoccupante e quindi è importante vaccinarsi e soprattutto vaccinare tutti quelli che si possono vaccinare. Quindi si è predisposto e si è programmato di vaccinare anche i giovani dai 12 anni compiuti in poi, ovviamente quelli che sono nelle condizioni di poter essere vaccinati, questo per prevenire il loro l'infezione, ma soprattutto per fare in modo che attraverso la loro protezione si possa limitare e bloccare la propagazione del virus e garantire, se si spera, un anno scolastico che sia più sereno e più tranquillo rispetto a quello che hanno visto i ragazzi lontani dalle classi e impegnati in questa attività didattica a distanza, che non hanno visto i frutti che possono dare invece la frequentazione della classe. Questo è importante, ma è importante pure riuscire a bloccare questa infezione e riuscire a limitare con un vaccino che sembra essere assolutamente sicuro e privo di effetti collaterali la gran massa della popolazione a raggiungere quel famoso protezione immunità di gregge che può garantire una prosecuzione tranquilla per tutti.